Musica Buonasera da Milano Pavia Gnoso e benvenuti all'edizione Pavia. I titoli Rimangono inagibili in via De Motis a Pavia la palazzina oggetto di un cedimento ai condomini nelle vicinanze. Sono un'ottantina le persone sfollate, oggi accompagnate a riprendere gli effetti personali. Anche gli esperti di EoCenter, il centro studi pavese sui terremoti hanno visionato le palazzine e continuano le verifiche tecniche mentre si stanno iniziando i puntellamenti. Sempre più lungo l'elenco dei comuni posti sotto osservazione per l'aumento dei contagi da coronavirus in provincia di Pavia. Dubbi sui parametri, nei piccoli centri bastano un paio di famiglie contagiate per far scattare l'allerta. Grave allarme da Mondino di Pavia, aumentati del 50% i casi di problemi psichiatrici tra gli adolescenti. Diventa concreto il disagio dopo un anno di pandemia tra lockdown e costrizioni. Ci sono due pavese tra i sottosegretari del nuovo governo Draghi. L'ex ministro Centinaio torna all'agricoltura mentre la Scaldasolese Tiziana Nisini si occuperà di lavoro e politiche sociali. Torneranno probabilmente già domani gli esperti del Center in via De Motis per valutare le condizioni della palazzina in cui ieri è avvenuto un importante cedimento che ha provocato l'evacuazione degli abitanti non solo di quella palazzina ma anche di quelle circostanti. Per le famiglie oggi c'è stata l'opportunità di tornare in casa pochi minuti per poter prelevare alcuni effetti personali. Vediamo. Questa è la palazzina principale che ha dei problemi statici, come vedete abbandonata così di punta in bianco con i panni stesi, una quotidianità spezzata all'improvviso dal cedimento di ieri. Ho trovato la strada bloccata e mi hanno detto che non poteva entrare perché c'era una palazzina pericolante, non so. Mi sono spaventato perché abito qua e quindi poi mi hanno detto che è la prima e adesso siamo in attesa. Le abite in quella vicina? La scuola al centro, quella al centro. Ha un sacchetto in mano, vuole recuperare le... Mia moglie prende 20 pillole al giorno per cui stamattina per la fretta ieri mi hanno cacciato vino, mi hanno fatto prendere tutte le medicine. Scappati in fretta, senza vestiti, medicine o soldi, è una delle tante testimonianze raccolte in via De Motis a 24 ore dal cedimento che ha causato lo sgombero di tre palazzine e di alcune villette poste dall'altro lato della strada. Siamo entrati nella cosiddetta zona rossa con l'aiuto della protezione civile per verificare da vicino la situazione. La palazzina principale interessata al crollo è questa qua, che è la palazzina C, mentre per sicurezza è stata sgombrata sia la palazzina B che questa qua adiacente al palazzo ovviamente dietro per motivi di sicurezza. Scappati dalle loro abitazioni, solo con quello che portavano addosso, circa 70 persone hanno lasciato un pezzo della loro vita all'interno delle palazzine di via De Motis. Trovando rifugio all'hotel Ritz di San Genesio o da alcuni parenti. In queste ore sono tornati per provare a recuperare qualcosa. Ma tutto, di andare via, ecco, chiudere e andare via subito, via, via. Ha un sacchetto in mano, deve recuperare qualcosa? Per recuperare tutti i frigori, i frigoriferi, i frezzi, perché ieri sera, ecco, staccando la luce, l'acqua si vede che si sono sciolte il ghiaccio e tutto per la casa. Stava mangiando, ha dovuto scappare di corsa e ha lasciato tutto quanto in casa ed era disperato perché non c'aveva neanche il giubbotto. Sono le nostre case, ai fine, insomma, è ingrescioso vedere se, insomma, portare via tutto in un attimo. È un problema serio, anche per le case e quelli che abitano di fronte. Adesso vedremo cosa decidono di fare, perché fino adesso c'è solo confusione. Sono venuta qui, abbiamo raccattato il possibile e li ho portati a casa mia. Basta. Ho cercato di recuperare qualcosa, la speranza. Più che altro, vabbè, sono persone anziane che vogliono ritornare a casa loro. Cioè, gli togli la casa, togli tutto una persona. Oggi c'è stato anche sopra il luogo del sindaco Fracassi, ma tutto il comune di Pavia si è attivato per monitorare questa complicatissima situazione. È arrivato in via De Motis a metà mattina il sindaco Fracassi per valutare la situazione dopo il cedimento e lo sgombero delle palazzine nella giornata di mercoledì. Per quanto riguarda i nostri uffici, avevo chiesto di andare a fare storia, cronistoria, per quanto riguardava il territorio prima della costruzione. Per cui stanno tirando fuori tutta la documentazione. Un center è passato ieri a fare naturalmente rilievi. È stato comunque commissionato da parte dell'amministratore un ingegnere che sta seguendo naturalmente le varie opere. Sta mettendo in sicurezza le palazzine di fronte e vediamo un po' come va. È chiaro che c'è un disagio non indifferente. ASM e Pavia stanno lavorando per ripristinare, ovvero possibile, naturalmente, i vari collegamenti. Lavoro in corso, come confermato dall'assessore alla partita COC, intervenuto immediatamente sul posto mercoledì con l'ufficio tecnico. Abbiamo disposto alcuni accorgimenti necessari per gli interventi di verifica strutturale dell'edificio, notificandoli chiaramente all'amministratore del condominio, che dovrà tramite dita specializzata verificare le condizioni strutturali per poi ridare agibilità a questo immobile. Ad oggi l'immobile è chiuso, non si può accedere, verranno fatte opere provvisionali di puntellamento e di messa in sicurezza dello stesso. C'è poi l'aspetto sociale della vicenda, altrettanto delicato, con decine di famiglie costrette ad abbandonare le loro case e rifugiarsi in hotel o da parenti. Oggi sono ancora appunto nella Hotel Ritz, dove sono state collocate ieri sera. Devo dire che sia l'amministratore del condominio oggetto del cedimento che Aler, che comunque noi che eravamo lì presenti, insomma, ci si è mossi subito. È chiaro che adesso dovremmo verificare un attimo le situazioni, sperando che le famiglie limitrofe possano rientrare quanto prima nelle loro abitazioni. Invece per quelli ovviamente che vivevano nella palazzina oggetto di cedimento, la situazione sarà diversa sicuramente e li bisognerà valutare una serie di cose. A presidiare gli appartamenti vuoti e costanti, la presenza di forze dell'ordine e polizia locale per evitare furti ed episodi di sciacallaggio. Come capita purtroppo in queste occasioni, quando ci sono queste situazioni, il rischio peggiore, dopo aver messo in sicurezza i residenti, gli occupanti, gli appartamenti, è quello di evitare sciacallaggio, attività di sciacallaggio. Per questo motivo è stato organizzato un presidio ad opera appunto della polizia locale, al quale collaborano anche i carabinieri. Così cerchiamo di mantenere, di garantire la sicurezza, almeno per quanto riguarda i beni che sono stati lasciati all'interno degli immobili. Ora di domani potrebbe essere una giornata molto importante per le verifiche, naturalmente continueremo a seguire questa vicenda molto complicata. Passiamo però adesso alla situazione epidemiologica perché ATS ha messo sotto osservazione altri comuni in provincia di Pavia. Alcuni parametri però per la messa sotto osservazione stanno facendo discutere. Dopo i primi 11 altri 17 comuni, quasi tutti dell'Oltrepo, finiscono nella lista in cui ATS inserisce quelli in cui l'andamento epidemiologico preoccupa di più. Tra di essi ci sono comuni abbastanza popolosi, fra i 5 e i 6 mila abitanti come Casteggio, Sizziano e Certosa di Pavia, ma la maggior parte sono piccoli o piccolissimi e tre di essi, Gagliavola, Montesegale e Oliva Gessi, non arrivano nemmeno a 400 abitanti, soglia sotto la quale, in base ai nuovi criteri adottati da regione, si finisce per essere sorvegliati speciali, per così dire, con un solo cittadino positivo al coronavirus. Proprio così, assieme alla presenza delle cosiddette varianti, riscontrate per ora solo a Vellezzo Bellini, Mede e Casorate I, al fatto di essere confinanti con un altro comune sotto osservazione e ovviamente alla presenza di focolai, a San Cirlo è un parametro che calcola i nuovi casi di contagio in relazione al numero dei cittadini. In sostanza, si cerca di calcolare non solo l'incidenza dei contagi in rapporto alla popolazione, ma anche se essi siano in aumento, prevedendo cosa potrebbe accadere. Per farlo, si utilizza un indicatore soglia di 250 contagi per 100.000 abitanti, in pratica lo 0,25% della popolazione. Se nell'ultima settimana questo indicatore è superiore, allora si finisce nella lista di attenzione. Come è accaduto per le restrizioni sulla circolazione delle persone, però un sistema valido in città mediogranti non sempre funziona se adattato a realtà piccole o piccolissime, con risultati a volte quasi paradossali. Come detto, nei comuni al di sotto dei 400 abitanti basta un solo cittadino positivo per finire nella lista rossa della regione. Non in zona rossa, ovviamente, ma comunque sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie e con regole più severe. Per esempio, l'isolamento di 14 giorni per i contatti stretti con soggetti positivi. Un isolamento da cui si uscirà solo dopo un tampone molecolare negativo e un attento monitoraggio anche nella settimana successiva, ovvero entro i 21 giorni dal contatto a rischio. Ecco parametri che quindi nei piccoli comuni danno qualche risultato che è davvero particolare. Abbiamo ad esempio analizzato il caso di Cigognola. Non ci sarà nessun imminente passaggio in zona rossa, né tantomeno esistono focolai di coronavirus fuori controllo. Ad affermarlo con un certo disappunto è Gianluca Orioli, sindaco di Cigognola, paese dell'oltrepo inserito nella lista dei comuni sotto osservazione da parte di ATS. per la diffusione fuori misura del covid. Dopo che si è sparsa la notizia che riguarda il suo comune ed essere stato tempestato di telefonate, il sindaco ha dovuto riportare tutti alla calma e smentire voci incontrollate come quella che dava per chiusa la scuola dell'infanzia del paese. A Cigognola, 1307 abitanti, sono bastati tre nuovi contagi per finire sotto osservazione. Questi tre nuovi contagi su 11 totali che ne abbiamo noi attualmente sul nostro territorio hanno fatto sì che il comune di Cigognola venisse inserito in questa elencazione di comuni a rischio di diventare zona rossa. Ne avevamo molti di più in autunno, quando purtroppo il virus si era insediato, insinuato nella casa di riposo, laddove invece oggi non c'è nessun positivo e tutti gli ospiti, come tutti gli operatori sanitari, sono già stati vaccinati. Le locandine diffuse sul territorio che, come dire, collocavano il mio comune a rischio di zona rossa hanno allarmato prima di tutto la popolazione, poi anche a me. Mi hanno allarmato e mi hanno anche infastidito questo modo di conoscere le cose perché naturalmente ritengo che dovessimo essere informati noi preventivamente dall'ATS rispetto a quello che poteva essere il provvedimento che era in fase di uscita da parte loro. È capitato così a me e agli altri sindaci dei comuni interessati da questo nuovo gruppo di enti locali attenzionati da ATS. Si tratta solo di un metodo, quello di non avere certe informazioni dalla stampa ma essendo naturalmente auspicabile che vengano veicolate da parte degli organi competenti e i primi destinatari delle informazioni siano i sindaci, le farmacie, i medici di base. Mentre, ripeto, quando è arrivata questa notizia ieri sulla stampa locale non ne sapevo nulla io, non ne sapeva nulla il farmacista di Cigognola e non ne sapeva nulla il medico di Cigognola. Il bollettino dei contagi di oggi di Regione Lombardia c'è un nuovo aumento dei contagi si sponde alla quota dei 4.000 giornalieri, 4.243 per la precisione l'8,2% dei positivi sul totale dei tamponi effettuati che vedete è comunque molto alto, segno che si sta testando parecchio 243 in nuovi positivi in provincia di Pavia vedete come a livello regionale aumentino i ricoverati e continuino ad essere numero importante quello dei decessi giornalieri. Per quanto riguarda i vaccini per le somministrazioni in Regione Lombardia vedete siamo ben oltre le 625.000, percentuale del 72,9% è un po' bassa perché sostanzialmente si stanno facendo poche dosi di AstraZeneca di fatti le categorie a cui è destinata AstraZeneca stanno vedendo partire la macchina vaccinale soltanto adesso è il caso ad esempio delle forze dell'ordine e sono partite le vaccinazioni delle forze dell'ordine in provincia di Pavia per Pavia si svolgono a Santa Margherita siamo andati a vedere sono partite questa settimana nella nostra provincia le vaccinazioni anti-covid per i membri delle forze dell'ordine le attività di somministrazione coordinate dal prefetto di Pavia Rosalba Scialla si terranno negli ospedali dell'ASST a Vigevano e a Voghera e all'interno dell'istituto Santa Margherita che fa capo all'azienda servizio alla persona del capoluogo abbiamo immediatamente dato la disponibilità degli spazi che avevamo già fornito all'ASST e con grande anche spirito di collaborazione hanno loro permesso questa sinergia 3 tra ASP Pavia, ASST praticamente titolare oggi dei locali e le forze dell'ordine e la prefettura per cui riteniamo che questa sia l'occasione per far arrivare, dare un servizio in un ambiente come lei vede molto molto confortevole dotato di grandi spazi, parcheggi e quant'altro ma non solo, noi vogliamo che venga conosciuto questo posto ma non dalla popolazione attiva quali sono le forze dell'ordine ma ogni soggetto ha dei familiari anziani ogni soggetto che viene qui può vedere cosa si può dare per una fascia di popolazione che è il nostro target di riferimento le persone fragili le persone con varie problematiche e conoscere per noi è una grande occasione e anche in questo spirito stiamo facendo tutto quello che stiamo facendo le vaccinazioni come centro vaccinale i tamponi che abbiamo fatto sia molecolari che rapidi l'obiettivo, spiegano dall'ASP, è dare un aiuto concreto nella gestione del piano vaccinale l'azienda servizio alla persona commenta il direttore amministrativo Maurizio Niutta e come sempre al servizio della comunità e delle istituzioni Ecco io direi che in questa vicenda epidemiologica la direzione di ASP condotta dal dottor Iannello coadiuvato da noi e dalla direzione medica di presidio ha svolto il suo lavoro non solo adempiendo le finalità istituzionali che da sempre abbiamo e da sempre sviluppiamo ma anche ponendosi al centro di una serie di servizi da offrire anche alla città di Pavia di offrire alle istituzioni nella consapevolezza che il piano vaccinale è il momento fondamentale di contrasto a questa pandemia che altrimenti, tutt'altro che sul finire rischia ancora di portarci nei momenti più bui della prima ondata quindi credo che questa situazione sia una situazione di servizio per la città, per le istituzioni e di servizio per una collettività che solo attraverso un piano vaccinale razionale e celere potrà permettersi di ripartire a tutti gli effetti anche sotto l'aspetto economico A proposito di vaccini, non solo c'è stata una protesta oggi a Pavia davanti all'ingresso dell'università in strada nuova da parte degli studenti del corso di laurea di medicina i ragazzi hanno spiegato che per loro non è prevista campagna vaccinale nonostante i loro corsi prevedano ovviamente la presenza nelle corsie degli ospedali pensate che erano circa 900 gli studenti che prima del covid svolgevano i tirocini negli ospedali legati all'università di Pavia mentre attualmente ci sono solo 76 posti per gli studenti dell'ultimo anno mentre il terzo e quarto anno hanno già avuto la comunicazione che tutto si svolgerà online c'è qualche speranza per gli studenti del quinto anno ma nulla ancora non è stato deciso sulla questione sono in corso trattative istituzionali ormai da mesi per il momento senza esito e quindi i ragazzi hanno voluto far sentire così la loro voce e arriva un altro allarme da parte invece degli adolescenti sta aumentando in maniera importante il numero di persone tra gli adolescenti che hanno problemi psichiatrici Le richieste di ricovero negli ultimi tre mesi sono aumentate del 50% rispetto allo scorso anno la fondazione Mondino di Pavia lancia l'allarme per gli adolescenti in lockdown sono in crescita i numeri assoluti e anche la gravità delle patologie tra cui atti di autolesionismo e tentativi di suicidio una situazione generalizzata di disagio che si era già registrata nella primavera del 2020 attraverso un sondaggio condotto dallo stesso istituto per valutare le conseguenze dell'isolamento sociale dovuto alla pandemia da Covid-19 il malessere riscontrato nel primo lockdown ora sembra essersi trasformato in franca patologia spiega il professor Renato Borgatti direttore della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della fondazione Mondino sono aumentate in particolare le richieste di ricovero per psicopatologie con attacco al corpo ossia con atti di autolesionismo via via sempre più gravi fino al tentato suicidio tra le patologie più frequenti vi sono però anche disturbi del comportamento alimentare psicosi con compromissione dell'esame di realtà aggressività e comportamenti distruttivi ritiro sociale e dipendenza da internet a fronte di questo quadro, secondo gli esperti è mancata una risposta tempestiva sul territorio per prevenire che la sofferenza emotiva percepita a causa della prima ondata si trasformasse in una patologia conclamata continua Borgatti oggi sembrerebbe naturale chiedere più posti disponibili negli ospedali ma non basta anzi il ricovero è l'ultima razza che si dovrebbe sempre cercare di evitare i veri interventi preventivi, conclude Borgatti si realizzano rinforzando i servizi territoriali con più neuropsichiatri, più psicologi e più educatori lavorando con le famiglie e nelle scuole tornano a essere operative le sale operatorie della Week Surgery dell'ospedale Asilo Vittoria di Mortara SST ha comunicato che il servizio all'interno del reparto di chirurgia generale sarà riattivato a partire dal lunedì 1 marzo si seguiranno gli orari canonici dalle 7 di mattina del lunedì fino alle 2 del pomeriggio del venerdì la politica con la nomina dei sottosegretari del governo Draghi e nel governo del governo entrano a far parte anche due pavesi C'è anche un po' di pavia nel nuovo governo con due pavesi tra i 39 sottosegretari nominati dal Consiglio dei Ministri guidato da Mario Draghi il primo è l'ex vice sindaco di Pavia ed ex ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio che torna nel ministero che aveva presieduto due anni fa 49 anni, leghista della prima ora Centinaio era entrato in Parlamento nel 2013 ed è attualmente senatore ministro dell'agricoltura nel primo governo Conte il cosiddetto governo giallo-verde con Movimento 5 Stelle e Lega Centinaio aveva accentrato nel suo dicastero anche la delega al turismo per la quale Draghi al contrario ha voluto creare un ministero specifico insieme a Centinaio le politiche agricole ci sarà anche Francesco Battistoni senatore di Forza Italia i due sottosegretari avranno il compito di affiancare il neoministro Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle un po' di pavia si respira anche al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con l'elezione a sottosegretario di Tiziana Nisini da tempo residente a San Gimignano in Toscana ma originaria di Scaldasole Tiziana Nisini, anch'essa leghista è stata eletta senatore nel Consiglio Toscana II dopo un mandato come assessore nel comune di Arezzo ed è stata commissario della Lega di Siena io vivo in Toscana da almeno 20 anni ma sono nata e cresciuta in un piccolo paesino in provincia di Pavia dove ho lasciato metà del mio cuore un paesino circondato dalle zanzare sotto attacco estivo da parte di milioni di zanzare ma che era, che rimane per me, il paese più bello del mondo questo paese si chiama Scaldasole dove vive ancora la mia famiglia dove ho trascorso la mia infanzia la mia adolescenza dove sono rimasti tutti gli amici più cari ho avuto un incarico importante nel governo Draghi come sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali che porterò avanti con forte senso di responsabilità e forte senso del dovere a Vigevano oggi in visita l'assessore regionale Lara Magoni per fare il punto della situazione delle aziende del distretto della calzatura giornata vigevanese per l'assessore a moda e turismo di regione Lombardia Lara Magoni che ha visitato diverse aziende del settore calzaturiero l'assessore Magoni ha riferito di una forte resilienza delle industrie locali in un contesto che rimane fortemente difficile per cui ha chiesto sostegno del governo con fondi di intervento immediato ringrazio veramente queste splendide aziende nel tessuto di Vigevano che rappresentano una realtà molto importante legata anche a favorire il lavoro proprio delle persone che abitano a Vigevano nella zona chiaramente circostante Stilla, Solazzo, Almini, Guidolin Icaiplasta e Cottino visto queste aziende ce ne sono tante altre in quali riconosco anche il coraggio di andare avanti ed affrontare un percorso complesso non solamente qui ma né regionale ma nazionale e internazionale a questo punto sicuramente sarà molto importante che questo nuovo governo possa dare veramente un sostegno concreto con indenizzi concreti al settore moda che per regione Lombardia è un comparto che vale 35 miliardi di euro e il reparto calzaturiero di Vigevano è una parte molto importante di questo sistema economico L'assessore Magoni ha inoltre parlato di turismo con gli esponenti locali di Fratelli d'Italia sottolineando le opportunità per Vigevano che potrebbero derivare dal rilancio del Museo della Calzatura nonostante il suo partito sia all'opposizione a Roma Magoni guarda comunque con favore al neoministro Garavaglia con il quale ha lavorato a lungo in regione L'intervento dell'insediamento del Premier Draghi mi ha confortata tantissimo dopo tre anni finalmente un Premier parla di turismo come rilancio del paese e questa cosa non è poco anche perché nel recovery plan purtroppo non c'è nella parola né di turismo né anche della montagna siccome siamo ancora sotto una crisi molto faticosa del turismo montano devo dire che parlarne è sicuramente stato un atto molto importante del resto avere un ministro al turismo finalmente non c'è mai stato dedicato al turismo è per noi una come si può dire un sollievo una grande opportunità perché il ministro Garavaglia è stato assessore al bilancio di Regione Lombardia e di Euroconsigliere un ottimo assessore al bilancio con un percorso poi al governo importante e attualmente questa grande carica su di lui puntiamo veramente tanto e al governo si sono rivolti anche i sindacalisti del Cuba oggi in presidio davanti alla prefettura a Pavia i soldi del Recovery Fund siano usati per un nuovo modello di sviluppo e per difendere i diritti dei lavoratori è la posizione del sindacato CUB la confederazione unitaria di base che ha organizzato una mobilitazione nazionale giovedì mattina a Pavia gli iscritti si sono trovati di fronte alla prefettura per chiedere che i lavoratori possano partecipare attivamente alle decisioni che riguardano l'utilizzo dei finanziamenti del Recovery Fund la nostra preoccupazione è che è iniziato l'assalto ai soldi che arriveranno dal Recovery Fund allora noi siamo qui oggi come in tante altre prefetture italiane in una giornata di mobilitazione per dire al governo Draghi giù le mani dal Recovery Fund il Recovery Fund si usi veramente per quello di cui il paese ha bisogno e per cui chiediamo nuovi ammortizzatori sociali quindi una riforma degli ammortizzatori sociali chiediamo una proroga del blocco dei licenziamenti fino ad ora non c'è stato detto fino a quando ci sarà questa proroga ma sappiamo benissimo che questa pandemia non finirà oggi e quindi chiediamo che questa proroga vada fino alla fine della pandemia così come chiediamo un nuovo modello di sviluppo un forte welfare pubblico a partire dagli investimenti nella sanità aumento dei salari e dei diritti del lavoro continuità di reddito in forma universale e dignitosa e rilancio di una programmazione economica per il declino industriale del nostro paese così come questo rilancio deve essere soprattutto un rilancio green che porti il paese a una vera riconversione ecologica Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Pavia all'ordine del giorno anche un punto sui lavori all'ex monastero di Santa Clara Torna a riunirsi a distanza di una settimana il Consiglio Comunale di Pavia dopo la seduta piuttosto accesa di giovedì scorso sul futuro rischio dei lavoratori della San Galli l'Assemblea del Mezzabarba affronterà una riunione decisamente più soft oltre ad una delibera per il riconoscimento di un debito fuori bilancio grande spazio sarà riservato infatti alle domande dei consiglieri comunali di opposizione tra i casi più spinosi il futuro dell'ex monastero di Santa Clara al suo interno si sarebbe dovuta infatti trasferire la nuova sede della Biblioteca Bonetta il Consigliere Comunale del PD Lissia ha presentato un'interrogazione per comprendere lo stato di avanzamento dei lavori io ho presentato una instant question nella quale chiedo quali siano le intenzioni dell'amministrazione rispetto al complesso di Santa Clara ormai i lavori come sapete sono stati iniziati da 25 anni sarebbe opportuno chiuderli ma sarebbe opportuno capire se veramente l'amministrazione ha intenzione di ripristinare un luogo che è un luogo tra l'altro molto di pregio della città in un complesso storico monumentale dove trasferirci la Biblioteca Bonetta oppure se non abbia intenzione di fare questo e inoltre chiedo nella mia instant question soprattutto che intenzioni ci sia rispetto al lato ovest il lato ovest non è stato interessato dalle ristrutturazioni e quindi sarebbe opportuno capire anche se l'amministrazione ha voglia di investirci su quel lato lì o seppure intenda lasciarlo decadere a pezzi è tutto per ora vi ricordo in prima serata l'appuntamento con il nostro show politica alla parola arrivederci e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti